e bello a tutti ragazzi qua è Nicola Schiavi Parla ed oggi siamo in un video ragazzi come sempre un nuovo video però ragazzi oggi questo video non sarà un video speciale perché ragazzi toglierò un intro si perché c'è un intro bello a tutti ragazzi con Nicola Schiavi Parla e ragazzi questo video non lo voglio far diventare molto triste ma ben si perché praticamente c'ho qua una persona che mi guarda ragazzi è una persona io ringrazio tantissimo chi me l'ha data la incornicero o farò qualcosa ma ragazzi questa è una leggendaria chi non dice che non è una leggendaria per me è una leggendaria perché è fortissimo ha 130 di vita può fare 120 di attacco ragazzi già avete capito chi è io vi dico solo l'iniziale K K e dopo ci saranno due parole K e B chi è un esperto di Pokémon o di Pokémon lo sarà? si si ragazzi c'è un bianco grandissimo c'è un bianco e lo metteremo qui c'è ragazzi aspettate c'è aspettate c'è tipo così ragazzi c'è praticamente qua c'è lo che me lo guarda qua c'è qua è la mia riflessione c'è con la mia riflessione quindi ragazzi il mio amico forse mi scambierà Victini Ex Victini Ex cioè Victini Ex un ex oh cacchio si ragazzi secondo me questo video può terminare qua ragazzi non avrò più l'entro perché avere due intro è una scemenza cioè avere due intro spreche solo memoria perché devo dire mettete like iscrivetevi io oggi questo video termina qua e se appena ho fatto i video di Clash Royale si quindi ho fatto due video perché mi hanno detto di fare molto più gameplay e io farò molto più gameplay e ragazzi ho trovato comunque video è una cosa ho trovato la veleno nel baule gigante nel baule oro spoiler ma nel video già ci sarà perché non l'ho non ho fatto nemmeno scrivere alla gioia comunque spoiler ciao ciao